Sappiamo che i fan sono dei piccoli diavoletti arapati, quindi non preoccupatevi davvero. No, scherzo, è una parte importante dello show e per questo credo che le persone amano i romance, perché hanno delle scene intime, focose, molto intense. Tutti i fan di Bridgerton sono finalmente felici che sia la stagione dei Pauline, davvero. Sìììì! Ascoltate, io sono una fan di tutto l'universo di Bridgerton. Amo il loro amore, amo la moda, amo il gossip e amo lo spicy. Ok, non mentirò. Quindi eravate pronti a portare lo spicy in scena? Che aspettative avevi su questo, Nicola? È stato davvero snervante all'inizio, ma poi abbiamo saputo che eravamo i protagonisti a metà della seconda stagione e quando siamo arrivati alla season 3 era fantastico, avevamo una magnifica coordinatrice dell'intimità, le scene sono scritte magnificamente e sono sempre molto divertenti e quando le guardiamo noi le amiamo davvero e speriamo le amino ancora. Ok, Luke, penso che tutti noi conosciamo Bridgerton, ma vogliamo parlare tutti del glow up, il glow up dei protagonisti di Bridgerton. Voi ragazzi eravate belli fin dall'inizio, ma quando tocca a voi nella stagione il livello della vostra bellezza si alza, come se foste tutti più hot, quindi parlami di come avviene questa magia. Come fa a essere così certi? No, ok, ero emozionato quando ho ricevuto lo script, Colin aveva il suo momento per brillare, lui torna in società e tutti sembrano emozionati nel vederlo, tutti tranne Penelope ovviamente ed è strano. Già, ed era divertente esplorare Colin e poi lavorare con tutti i dipartimenti per fare un cambio di aspetto, perché appunto cambia la dinamica. Quando torna infatti, anche quando vede i fratelli, si sente come se adesso fosse al loro livello, non si sente più di essere il fratellino più piccolo, il fratello che quindi ha sempre bisogno di aiuto. Lui è cresciuto, ragion per cui adesso lui può essere chiunque lui voglia essere. E posso dirti sinceramente che hai fatto un ottimo lavoro e soprattutto amiamo le parti rom-com e vedere che anche un uomo possa amare così intensamente. Grazie. E sei stato davvero bravissimo. Nicola, abbiamo parlato della grande comunità di Bridgerton e ci sono molti profili online, ci sono anticipazioni della stagione anche, tutti in attesa della stagione 3. Molte persone vi hanno visto con foto sulle più grandi copertine e sono tipo, oh wow, lei ha 37 anni e sono sorpresi. Ma insomma, tu non hai mai mentito sulla tua età, quindi dico la tua reaction a queste perché ho detto sin dall'inizio che io non volevo mentire su questo, perché l'industria vede spesso all'età ma poi mi sarei sentito un'ipocrita se avessi mentito sull'età e poi dovevo continuare a fingere forse senza esserne mai capace perché faccio schifo a mentire, penso anche comunque sia dannoso per una donna, quindi sono ok, io sono la prima che dico che non sono proprio un'adolescente, non ho nessuna connessione con questo mondo, mi sono fatta il culo per arrivare dove sono e mi ci è voluto molto e sono molto orgogliosa di me, quindi sì, è divertente, ne ho viste alcune online, sì, qualcuno diceva, sì, vedete, non bisogna fare la dieta per rimanere belle, e io, ok, non farla! Oh, ragazza, devo dirtelo, io ne ho 50, ho più di 50 qualche mese fa, si tratta di quale età alla fine di mostri? No! E possiamo quindi non pensare agli anni che abbiamo, quindi grazie la patente la settimana scorsa e poi io ho una faccia davvero giovane, quindi sì, sono quella che sono! No, sei bellissima! Grazie! Luke, ti abbiamo visto in una macchina, tu sei l'uomo della città, quindi ti vedo un po' come Colin che viene messo sempre sotto i riflettori e anche tu riesci a ottenere i tuoi momenti nella moda, ami la moda, entrambi voi amate la moda, quindi com'è la moda per tutti voi? Perché ne avete molta in Bridgerton, avete molti vestiti, molti cambi look... Assolutamente, direi che il più alla moda potrebbe essere Colin, insomma, quando torna in città è l'uomo del momento nella stagione. Penso che sia divertente quest'anno, soprattutto per il guardaroba di Colin, perché lui si veste influenzato dalle città che ha visitato nei viaggi. È stato bello lavorare con i designer su vestiti in stile Parigi e su altri luoghi dove lui è stato, quindi ci sono molti modi in cui lui esplora. La moda è un modo di esprimersi e noi comunque lo facciamo sempre come attori, spesso riusciamo a viaggiare per il mondo e ci immergiamo nel loro stile per un po', quindi è bello sentirsi collegato a lui in questo, abbiamo qualche parallelismo tra le nostre bellissime vite. Grazie... Grazie a tutti.